Amici di Radio Bruno, sono venuti a trovarci la rappresentante di lista, Dario Veronica, ciao! Ciao, bene! Allora, credo che a novembre avrete qualcosa da fare. Sì, ci siamo impegnati tutto il mese per fare un tour. Esatto, e tanta nuova musica. Però secondo me un appuntamento più vicino è proprio la serata delle cover a Sanremo, dove insieme ad Anna Lisa farete un omaggio agli Eurythmics. Sì, siamo veramente molto esaltati per questa serata, siamo pieni di energia e non vediamo l'ora, insomma, di divertirci sul palcoscenico. Veronica e Anna Lisa fanno qualcosa di stupefacente. Eh, guarda, me l'ho immaginato perché la voce di Veronica la conosciamo, di Anna Lisa, abbiamo cercato di immaginarcele insieme. Sarà una versione fedele all'originale oppure con la vostra impronta insieme a quella di Anna Lisa? Allora, secondo me è un bellissimo mix. C'è un po' della versione degli Eurythmics, un po' della versione di Marilyn Manson. Ci siamo dentro noi, c'è dentro il gusto di Anna Lisa, c'è un bellissimo coro. Quindi secondo me è una versione, una bella rivisitazione, ecco. Bello, comunque con le sonorità più anni 80 o moderne? Totalmente 80s, totalmente. E a proposito invece di Sanremo, quando eravate a casa, piccolini, quale canzone vi ricordate di più? Panico. Io mi ricordo che con i miei genitori votavamo tutte le canzoni. La terra dei cachi. Sì. Brava, però. Elio e le storie tese. Io e Giorgia. Eh, vabbè. Cosa però? Come saprei? Beh, allora, e poi era un pochino prima e come saprei... Ah, scusami, perfetto, allora c'è. Ci siamo. No, ma tra l'altro, la terra dei cachi, Elio e le storie tese, mi ha fatto venire in mente che in quell'anno poi riproducevano il mercoledì o il giovedì tutta la canzone, soltanto un quarto d'ora. Ed Elio l'accelerò per fare tutta la versione. Non so se te la ricordi. Non me la ricordavo. No, geniale. Geniale. Tra l'altro un precursore di un trend che è andato per un po' di velocizzare le canzoni. Velocizzare le canzoni, è vero. Fantastico, Elio. Altri ricordi di Sanremo o del vostro Sanremo? Allora, del nostro Sanremo, dei vari nostri Sanremo, perché a questo punto ne abbiamo fatti un po', incredibili. Beh, ho un ricordo sempre molto piacevole di una grande adrenalina, una bella tensione, perché comunque, non so perché, sarà il palcoscenico, il pubblico da casa, l'energia che trasmette quel luogo lì, che comunque è una casa dove c'è un sacco di gente che lavora, si impegna. Cioè comunque ti crea un'emozione irripetibile, cioè sudano le mani, ti si accelera il battito del cuore. E quindi ho proprio il ricordo anche di una grande gioia, vibrante, vibrante in questo senso. Sì, mi ricordo anche il dietro alle quinte, forse voglio ricordare quello, che è veramente un mondo che brulica di tante persone che ti aiutano e questo è sempre stupendo. E tra l'altro Sanremo è anche un'occasione per instaurare nuove amicizie, eventuali collaborazioni. Volevo sapere se poi questa versione della cover ci sarà magari per i live che abbiamo annunciato prima, oppure inclusa in un vostro lavoro. Ma secondo me è qualcosa che dovremo condividere con Annalisa e che credo che oggi abbia detto in conferenza stampa che vorrà pubblicare. Quindi perché no, magari la porteremo anche dal vivo. Ma sì, ma sì, vedremo. Ma spero di sì comunque. Invece, tornando proprio ai live di quest'anno, ci potete anticipare qualcosa? Ormai va di moda in ogni tappa ospitare qualcuno. Non so se avete visto questa tendenza. Ci avete pensato anche voi? Allora, in realtà siamo ancora distanti da quel novembre, da quell'autunno. E quindi in questo senso siamo veramente super concentrati per stasera e avremo modo in questi prossimi mesi di pensare anche agli ospiti, che è sempre bello avere sul palco. E di immaginare appunto anche dei momenti, anche nuovi per noi, perché effettivamente non l'abbiamo mai fatto spesso, no? Di ospitare. Di avere dei... È vero. Sì, quindi potrebbe essere una novità interessante, ma ci ragioneremo sopra. Ci ragionerete, poi di sicuro ce lo volete raccontare. Eh, vi aspettiamo. Lo sapete, grazie mille alla rappresentante di lista, grazie Veronica, grazie Dario. Grazie a te, ciao. Grazie a te davvero, ciao.